The Football Story 2030 presenta un mito del calcio. Karl-Heinz Schnellinger, nato a Duren il 31 marzo 1939, è un ex calciatore tedesco di ruolo difensore. Terzino sinistro Arcigno, dal fisico robusto, soprannominato Volkswagen per la sua continuità di rendimento, sia per quantità sia per qualità, poteva ricoprire vari ruoli, da quello di mediano a quello di stoppero o di libero. Era altresì abile nei taccoli in scivolata. Dopo gli esordi nel club della sua città, il Duren 99, nel 1958 passò al Colonia, dove militò per quattro stagioni, fra le più gloriose della storia dei caproni, che si aggiudicarono il loro primo titolo nazionale nella stagione 1961-1962, e raggiunsero altre due volte la finale dell'Oberliga. Nel 1963, dopo la finale di campionato persa col Borussia Dortmund, nella quale segnò la rete del 1-3 finale, l'ultima della storia dell'Oberliga, che verrà sostituita l'annata successiva dalla Bundesliga a girone unico, si trasferì in Italia, acquistato dalla Roma, che lo cedette in prestito al Mantova. Con i Biancorossi fece il suo esordio in Serie A il 15 settembre 1963, in una sconfitta interna per 4-1 contro il Milan, in cui il tedesco disputò un'ottima partita facendo vedere ottimi interventi difensivi. La stagione successiva vide Schnellinger nella capitale di ritorno dal prestito, nella squadra capitolina confermò il suo eclettismo tattico, venendo impiegato in numerosi ruoli, terzino destro, terzino sinistro, laterale, libero. Nel 1965 si unì al Milan, con cui giocò per ben nove stagioni in uno dei periodi d'oro dei rossoneri, tanto che il suo nome è presente nella Hall of Fame del club meneghino. Il primo trofeo vinto all'ombra della Madonnina fu la Coppa Italia del 1967, seguita l'anno dopo dal double scudetto Coppa delle Coppe, nel 1969 seguì un'altra doppietta, quella composta da Coppa dei Campioni e Intercontinentale. Schnellinger continuò a vestire la maglia rossonera nella prima parte degli anni 70, vincendo altre due Coppe nazionali, 1972 e 1973, e la Coppa delle Coppe del 1973. Proprio in quell'anno sfiorò lo scudetto della stella con l'inaspettata sconfitta all'ultimo turno contro il Verona, passata la storia come fatal in quanto i milanesi persero un titolo dato quasi per certo, collezionando il terzo posto d'onore consecutivo. L'anno successivo, il 1974, fu l'ultimo al Milan prima di lasciare il calcio italiano, in cui collezionò 284 presenze in 11 campionati. Da notare che Schnellinger, in 222 partite di campionato con la maglia rossonera, non realizzò mai alcuna rete. Complessivamente Coimeneghini vanta 334 presenze e tre reti realizzate. Nel 1974 tornò in patria esordendo in Bundesliga a 35 anni nelle file del tennis Borussia Berlino, anch'esso all'esordio in massima serie, senza tuttavia riuscire ad evitare l'immediata retrocessione, ritirandosi dall'attività agonistica a fine stagione. A livello internazionale, dopo l'esordio a soli 19 anni, Schnellinger prese parte a ben quattro edizioni consecutive della Coppa del Mondo di Calcio, da quella disputata in Svezia nel 1958 a quella messicana del 1970. In particolare è nota la sua partecipazione a quest'ultimo mondiale, poiché in semifinale la Germania Ovest affrontò l'Italia allo stadio azteca di città del Messico in quella che è stata poi definita la partita del secolo. All'ultimo minuto, quando l'Italia conduceva grazie a un gol di Roberto Boninsegna, fu proprio Schnellinger a pareggiare i conti con una spaccata, rendendo così possibile una mezz'ora fra le più belle della storia del calcio, i celebri tempi supplementari in cui si susseguirono cinque gol per il 4-3 finale a favore degli azzurri. Il gol di Schnellinger al novantesimo minuto fu l'unica rete segnata dal terzino nelle sue 47 apparizioni in nazionale. Grazie per aver scelto il nostro canale, se il video ti è piaciuto, non dimenticare di iscriverti, mettere un like e lasciare un commento. La vostra partecipazione è la nostra fonte di energia, grazie.